ciao a tutti bel bel cosa o questo 2020 si prospetta già fantastico ciao a tutti e buon 2020 oggi è finalmente arrivato il giorno del primo video del 2020 scusate se non ho caricato nulla ma mi volevo godere un po le vacanze mi sono un po riposata e mi sono guardata due stagioni di project runway quindi sapete le priorità comunque sono sempre le stesse tranquilla a me non sei mancata di certo ovviamente non potevo cominciare questo 2020 senza il video dei preferiti del 2019 al di sotto dei 15 euro o anche tantissimi al di sopra dei 15 euro quindi io vi faccio la domanda ma so già la risposta volete anche il video dei preferiti al di sopra dei 15 euro e si mi raccomando scrivetemelo qui sotto ma ho come il sentore che saranno solo sì anche perché quest'anno le aziende sono veramente impazzite ci sono state miliardi di uscite io non sono neanche riuscita a provare tutto quello che mi è stato inviato alcune novità sono ancora lì ferme le devo ancora provare ma piano piano uno si aggiorna su tutto ma direi che comunque ho già tantissimi prodotti di cui parlarvi quindi cominciamo subito perché diventa lunghissimo se no questo video innanzitutto il makeup che indosso oggi a parte averlo filmato e magari ci faccio anche un mini video instagram ma è stato tutto creato con i prodotti di cui vi parlerò adesso però ovviamente di alcune categorie ho più prodotti preferiti quindi ho semplicemente scelto uno dei prodotti e partirei direi con la skin care ne ho solo due allora sappiate che sono stata molto selettiva e molto 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 cattiva quindi c'è proprio ho detto allora deve essere proprio qualcosa che di cui non posso fare a meno perché altrimenti praticamente vi citavo un centinaio di prodotti e non ha senso qua siamo solo credo sui 50 e alcuni prodotti che vi citerò magari costano 15 euro e 90 ma li ho voluti comunque include nella categoria 15 euro perché insomma sono proprio lì quindi così poi nel video di cui sopra i 15 euro non li devo inserire ma ne inserirò altri primo prodotto è lo stick di milk makeup il cooling water che è quello piccolo quindi costa tipo 12 euro ovviamente ha poco prodotto perché all'interno ci sono solo 6 grammi mentre invece quello grande che costa mi pare 22 ne ha 34 quindi ovviamente nel caso vi consiglio quello grande c'è da dire che questo qua piccolo io lo uso come contorno occhi e ovviamente per la grandezza direi che è perfetto per quello scopo mentre quello grande è abbastanza grande quindi non so quanto possa essere facile andare a metterselo solo nel contorno occhi comunque lo uso appunto nel contorno occhi perché è rinfrescante molto leggera una texture super sottile quindi al di sotto del makeup mi piace molto perché non vado a pesantire se mi voglio truccare subito dopo non non fa casino con i prodotti lì sopra quindi mi è piaciuto molto e la crema idratante veramente ho usato anche di più rispetto a tutte quante quelle che ho è quella di revolution l'hydration boost sta finendo proprio al fondo sto raschiando il fondo del barile come si dice ma mi piace davvero moltissimo perché ha una texture molto leggera ma super idratante quasi quasi acquosa non so come spiegarvi da proprio un senso di freschezza che di nuovo sotto il makeup mi piace tantissimo una crema che solitamente uso di giorno di sera mi piace qualcosa di un po più spesso quasi oleoso cioè che la mattina mi sveglio la pelle proprio morbida questo qua secondo me è più appunto va benissimo per il giorno e soprattutto sotto il makeup quindi ora passiamo ai primer primer il super fruit extract di revolution che in realtà non è uscito nel 2019 in realtà molti di questi prodotti non sono usciti nel 2019 ma io li ho scoperti nel 2019 quindi fanno parte dei migliori del 2019 per me che appunto è diciamo una specie di dupe del unicorn essence di farsali a tra l'altro non so se vi siete accorti ma sono caduti due soldati quindi sì andiamo oltre perché ho cercato nelle riprese di tipo nascondere gli indici ma gesticolando direi che è impossibile quindi niente è andata così e comunque mi piace molto proprio perché come primer agisce in maniera appiccicosa cioè nel senso che lascia la pelle con una leggera luminosità una comunque un effetto radioso che è molto bello ma anche con una texture appiccicaticcia che quindi fa aderire bene il fondotinta al di sopra. L'altro primer che ho usato è il Muse Texturizer di Neve Cosmetics questo qua è un primer opacizzante e riempitivo nel senso che livella un pochino la zona dei pori visto che io a fianco del naso ho dei pori un po' più evidenti mi piace andare a minimizzarli un pochino con questo prodotto perché trovo che rispetto a tanti altri primer di questo tipo o comunque stick di questo tipo sia a parte non siliconico non da quell'effetto plasticoso brutto ma oltretutto non è grasso cioè non è troppo grasso e non scivola quindi il fondotinta lì sopra quindi mi piace molto per questo. Passiamo ai fondotinta ragazzi qua allora è già ho proprio ridotto al minimo essenziale però ne ho dovuti scegliere tre per il semplice fatto che hanno caratteristiche molto diverse ma che mi piacciono per cose diverse quindi partiamo da quello che ho utilizzato oggi che è quello di astra il transformist foundation più concealer io uso la tonità 03 che forse una proprio solo una puntina troppo scuro ma mi piace nel caso lo scherisco poi con un po di correttore è ottimo praticamente ha un'ottima coprenza una texture molto sfumabile io lo trovo idratante non lo trovo per niente opaco poi con proprio un solo velo di cipria si fissa e per pelli secche va benissimo addirittura anche non fissarlo io infatti non lo fisso ce l'ho fisso fisso solo in realtà il correttore veramente mi sono ritrovata a usarlo davvero spesso da quando è uscito quindi ve lo consiglio per quello. Ovviamente non era pensabile che Gaia si ricordasse tutto quindi si è dimenticata di dirvi che uno dei prodotti migliori del 2019 è sicuramente la spugna di Juno & Co con cui ho applicato il fondotinta o fondotonta dovrei dire un altro fondotinta che mi è piaciuto molto e sapete che lo uso spesso è l'insta moisture di Kiko tonalitta invece questo è il 1.5 n questo mi piace invece più da tutti i giorni proprio perché ha poca coprenza è idratante da proprio solo un po di uniformità al viso molto leggero cioè mi piace proprio per queste caratteristiche qui se cercate qualcosa di quasi più una bb cream non lo so forse è più paragonabile a una bb cream secondo me questo è davvero ottimo invece come fondotinta super full coverage ormai l'avrete capito il cover and perfect di Debbie che tra l'altro sono contentissima perché io ho perso il conto di quanti di voi mi hanno mandato la foto che l'aveva comprato e che eravate contentissimi del risultato e io pure è il fondotinta che uso di più per eventi tipo l'ho messo a natale cioè insomma per quando voglio un po' più dico cioè voglio fare proprio un trucco bello costruito questo qua è perfetto perché vi cancelle connotati proprio con pochissimo prodotto senza però essere pastoso cakey polveroso pesante cioè vi giuro è secondo me davvero un ottimo prodotto costa davvero poco quindi ve lo straconsiglio ovviamente visto che l'avevo provato in un video sponsorizzato c'è sempre il complottista di turno che mi dice ma non è possibile che ti possa piacere quel fondotinta se tu hai la pelle secca io l'ho provato ed è terribile ragazzi io non so che cosa dirvi magari è solo per questioni di skin care al di sotto semplicemente le nostre pelli sono molto diverse non è che se ho la pelle secca io e ce l'hai pure tu allora per forza ci deve piacere lo stesso prodotto non è detto a me piacciono anche dei fondotinta che non sono andati a pelli secche quindi purtroppo a volte bisogna semplicemente provare per fortuna molto economico quindi insomma se proprio proprio è terribile magari riuscite a regalarlo a qualche vostra amica o amico e lo cambiate insomma però devo dire che io mi sono trovata stra bene e tantissimi di voi pure quindi sono molto contenta di questo passiamo oltre correttori mamma mia avrei bisogno dell'ossigeno partiamo da quello che ho indossato oggi che non vi faccio vedere da un po di tempo ma in realtà io l'ho usato tantissimo quest'anno io un sacco di queste cose magari ve le ho fatte vedere poco in video ma nella realtà le usate spesso perché dovendo provare continuamente costantemente nuovi prodotti e magari poi anche innamorandomi di un nuovo prodotto quindi ho iniziato a usare di più quello magari alcuni sono passati in secondo piano ma oggi sono qua per riportarli in primo piano perché sono ottimi e quello che io ho oggi è il pro light concealer di mesauda io ho usato la tonalità non questa ho usato l'altra dov'è io ho usato la tonalità c30 scusate ma sto avendo dei problemi con il computer a cui è attaccata la videocamera quindi non mi ricordo dove sono arrivata forse stavo parlando del fatto che alcune volte magari mi dimentico poi di farvi rivedere i prodotti ma il correttore che ho usato oggi è il pro light concealer di mesauda e appunto questo è un correttore davvero molto 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 cremoso è idratante coprente abbastanza secondo me ha un'ottima coprenza e che secondo me è veramente un piacere da mettere cioè l'effetto una volta sfumato è molto bello non è magari super piallante e se non fissato va nelle rughe però io in realtà ho questo problema con qualsiasi correttore abbia mai provato forse l'unico che non fa questo effetto così tanto di andare nelle pieghe è lo stay naked nuovo di urban decay che infatti spoiler sarà uno dei prodotti preferiti sopra i 15 euro però appunto in realtà questo mi piace davvero molto un correttore più da tutti i giorni che mi è piaciuto tantissimo è il concealer solution di Debbie anche di questo ve ne ho parlato un sacco lo sto usando davvero cioè se devo truccarmi leggero la mia combo preferita sono il fondotinta di Kiko e il correttore di Debbie luminose effect proprio perché ha questo effetto luminoso fresco rimpolpante antifatica è molto molto carino invece l'ultimo è il conceal and hydrate di revolution anche questo è uscito quest'anno della linea nuova conceal and hydrate non ho messo il fondotinta solo perché è molto simile secondo me a quello di Astra ma quello di Astra è più bello a mio parere quindi semplicemente ho voluto scegliere quello il conceal and hydrate correttore invece mi piace molto anche questo è super coprente ma idratante come il conceal and define ma versione idratante visto che a me il conceal and define piaceva ma aveva comunque questo finish un po' passoso un po' secco questo qua ha risolto quel problema quindi mi piace davvero molto soprattutto quando cerco qualcosa di full coverage ora parlo del blush semplicemente perché è un blush in crema quindi oggi sono andata a metterlo prima di qualsiasi altra polvere e sto parlando e tra l'altro è l'unico blush che ho deciso di mettere perché allora a me i blush piacciono non saprei trovarmi il mio blush preferito però ho deciso di mettermi quello che ho usato più spesso che è questo qua di milk il lip and cheek work tonalità work che in realtà qua ha al di sopra del fondotinta quindi non si vede la tonalità giusta la tonalità è questa qua è molto carina è super sfumabile mi piace un sacco l'effetto che dà perché lascia comunque un po' le gote un po' luminosine che a me piace un effetto che mi piace tantissimo e niente quindi l'ho amato e lo sto amando e lo uso molto spesso proprio perché in realtà mi sta piacendo molto di più utilizzare prodotti in crema solamente che prodotti in crema economici non ce ne sono tantissimi quindi in realtà quelli che sto usando sono un pochino più costosi di 15 euro e quindi ve ne parlerò nel prossimo video però appunto questo qua costa anche questo qua 12 euro come lo stick del contorno occhi in realtà questo blush invece vi durerà tutta la vita nel senso che mentre questo qua come vedete ne ho già usato parecchio questo qua non lo finirò probabilmente mai quindi va benissimo questo qua piccolo e costa 12 euro quindi ottimo secondo me e per concludere il giro creme lo stessa cosa vale per lo stick di illuminante questo qua è lit anche questo 12 euro molto molto bello ha un effetto quasi da balm che dà quell'effetto un po' appiccicaticcio quindi in realtà vado poi all'isopra con un altro illuminante in polvere per diciamo settarlo però è molto bello poi questi prodotti sono soprattutto bellissimi secondo me d'estate senza neanche il fondotinta andati proprio a mettere direttamente sulla pella bronzata sono perfetti comunque ora passiamo alle polveri invece ciprie allora queste costano entrambe 15,90 euro però ho voluto includerle perché sono in assoluto le cipre migliori che sono uscite quest'anno che io ho provato e di cui mi sono innamorata come cipria compatta la Antoinette delle Royal Powders di Erich Yobba in collaborazione con Cosmify oltre ad avere un pack bellissimo secondo me la polvere in sé è meravigliosa è super piallante perché all'interno ha una argilla se non sbaglio che ha proprio un effetto levigante e quindi è molto riempitiva è levigante cioè molto bello come effetto fa proprio un effetto quasi porcellana io di solito la cipria vado a mettere solamente proprio sotto gli occhi e appunto nella zona dei pori perché voglio andare a minimizzarli quindi la cipria sicuramente minimizza quelle parti e un pochino nelle rughe ma veramente poco quindi questa è ottima mentre come cipria in polvere libera sicuramente la Bake Set and Forget di Andrea Cimatti in collaborazione con Cosmify anche questa parte c'è un casino di prodotto non lo finirò mai questa è la tonalità 01 che è la traslucida praticamente cioè in realtà non è traslucida è bianca non bianca ma molto chiara però non lascia l'alone bianco forse un pochino schiarisce ma sulla mia pelle è perfetto perché invece la 02 che è leggermente più giallina su di me soprattutto cioè va bene d'estate ed inverno invece è proprio troppo gialla quindi questa è la tonalità perfetta per il resto dell'anno cioè per l'inverno più che altro e stessa cosa di quella di Eri Chioba è molto riempitiva e levigante fissa benissimo opacizza senza appesantire senza seccare per pelli secche comunque trovare una cipria che non secchi non è facile e devo dire che queste fanno un ottimo lavoro bronzer partiamo da quello che ho usato in realtà non è vero li ho usati tutti e due però vabbè in realtà ho usato un po' di più questo qua che è il Velvet Bronze Flat Perfection di Neve Cosmetics che è questa cipria qua e allora nasce come cipria ho fatto anche un video quindi dovreste averlo visto comunque nasce come cipria quindi ha la pigmentazione di una cipria quindi non troppo alta perfetta per andare a scaldare dare un po' di colorito ai contorni del viso mentre d'estate a dare magari un po' di colorito un po' a tutto il viso la tonalità è leggermente più rosata su di me sta bene trovo non mi ingrigisce e va bene quasi come tonalità da contouring barra bronzing invece come bronzer vero e proprio mi è piaciuto molto quest'anno anche se l'ho scoperto relativamente recentemente quindi però l'ho usato e mi è piaciuto è questo qua di Mina The Bronzer Powder numero 103 è una buona polvere non fa macchie insomma mi è piaciuto devo dire che tendenzialmente quest'anno ho usato di più prodotti più costosi di 15 euro per il bronzer e magari in crema quindi li scoprirete in un prossimo video ovviamente non poteva mancare il mio adorato Athena Partenos perché è l'illuminante che ho usato di più tutto l'anno da gennaio quando è uscito nella versione Basic Marble a quello di Basic Marble Resort che è lo stesso identico illuminante in un nuovo pack è il mio illuminante preferito penso per sempre lo sarà per sempre il mio piccolo bambino e lo amo sono contenta che lo amiate anche voi in questi mesi dove magari mi è capitato di fare degli eventi comunque essere da qualche parte e tantissima gente portava dietro gli illuminanti e in particolare molto spesso era Athena Partenos e niente quindi sono molto contenta e oggi sono andata a metterlo proprio al di sopra dello stick di Milk proprio per evitare che lasciasse troppo appiccicaticcio così in questo modo invece è fissato ed è molto luminoso però senza essere polveroso la cosa che mi piace dei miei illuminanti ora senza voler essere paraculo però è che davvero danno un effetto molto luminoso ma non polveroso quindi lo amo mi sono resa conto solo ora che Athena Partenos è sold out online e temo che ormai si trovi in pochissimi OBS quindi mi spiace per chiunque lo volesse vendere sopracciglia allora è una cosa che ho scoperto recentemente ma da quando l'ho scoperta non ho usato altro e sto parlando del Soap Browse di West Barn West Barn tipo si chiama la marca comunque lo chiameremo Soap Browse perché alla fine è diventato quasi un marchio a sé che è questo coso questa saponetta praticamente che va leggermente in umidità con uno spray io oggi ho usato quello spray che vi farò vedere dopo poi con un pettinino di questo tipo in realtà c'era anche quello in dotazione ma mi sono resa conto che mi trovo meglio con questo qua che è di un set di Wish se non sbaglio e con questo qua si vanno a pettinare le sopracciglia e a fissarle poi oggi ho aspettato un pochino ho fatto il resto del viso e poi sono tornata a riempirle solo perché è meglio se si lasciano leggermente asciugare e riposare un secondo quindi semplicemente per questo e il prodotto che tra tutti non ho avuto dubbi di quale fosse il mio preferito di quelli usciti quest'anno è il Geisha Brows Crema Gel Sopracciglia di Astra che io uso in realtà in due tonalità perché la 01 è molto chiara mi piace soprattutto per la parte iniziale delle sopracciglia ma verso la fine dovevo un po' più di buchetti in realtà mi serve la 02 che è un po' più scura e quindi mi va a simulare meglio la presenza di pellettini insomma e la cosa molto bella di questo prodotto è che ha il pennellino incorporato che è molto comodo perché insomma si ha sempre il pennellino dietro per assottigliarlo io di solito semplicemente lo pulisco un po' in un pezzetto di carta o in una salviettina struccante in questo modo viene molto molto sottile e poi semplicemente si va a pucciare nel gel che è un gel waterproof quindi una formula waterproof molto pigmentata facile da controllare non è troppo scivolosa non è troppo cremosa quindi si riesce tranquillamente a usare e io devo dire che veramente li ho trovati ottimi costano pochissimo secondo me sono il migliore il problema è che ci sono pochi colori come più o meno qualsiasi cosa di Astra il problema è un po' lo shade range però io spero che si ampli un po' di più io con questi due riesco comunque a fare le sopracciglia e comunque due costano meno di più o meno qualsiasi altro prodotto di questo tipo sono veramente contenta che siano riusciti ad arrivare a una formula così efficace così ad alta prestazione un pack così intelligente che effettivamente è molto comodo da portare in giro alla fine hanno ottenuto un prodotto che secondo me è davvero davvero valido primer occhi abbiamo pure questa categoria quest'oggi allora sapete tutti che ultimamente ho scoperto la P. Louis Base che costa meno di 15 euro costa sugli 10-11 se non sbaglio però il problema è che è reperibile praticamente solo online e io l'ho presa sul loro sito il problema è che magari se si prende solo un prodotto poi si pagano tipo 5-6 euro di spedizione invece bisogna arrivare tipo a 40 euro per non pagare la spedizione ma loro vendono praticamente solo ed esclusivamente queste basi occhi e forse una o due palette quindi non è facile in realtà cioè infatti praticamente io sono ritrovata a prendere tre basi occhi che non userò neanche mai in tutta la vita ma vabbè ormai è così quindi oggi in realtà al posto di quello ho voluto usare quello che io invece ho usato praticamente tutto l'anno con cui mi sono trovata molto bene poi devo dire che la P.Louise ha quel qualcosa in più si sfuma decisamente meglio al di sopra ha una presa diversa però io comunque tutto l'anno mi sono trovata stra bene con questo prodotto di Revolution quindi vi parlo di questo che è quello che ho usato oggi ed è il Cat Crease Canvas Full Coverage Eyeshadow Base questa è la tonalità illustrate quindi una tonalità abbastanza chiara per far risaltare un po' di più i colori io mi trovo stra bene con questo poi ripeto sono contenta di avere la P.Louise perché questo qua forse è un pelino più liquido e quindi forse fa un po' più di pieghe è un pelino più bagnato quindi insomma bisogna un po' avere qualche accortezza però comunque io mi sono trovata bene quindi io ve lo consiglio costa davvero poco e quindi niente se volete un primer stile P.Louise non è P.Louise ma insomma è un ottimo primer passiamo alle palette occhi devo dire che trovare una palette occhi lì sotto di 15 euro veramente valida non è facile infatti ce n'è solo una e solo una ci sarà per sempre che è la Make Magic di Carmi per Revolution non potevo non citarvi questa perché secondo me è un'ottima palette per il prezzo che ha e ha delle texture cioè questi qua in alto sono fantastici sono veramente degli shimmer glitterati bellissimi bellissimi io oggi sono andata a mischiare questi due su tutta la palpebre invece come base matte ho usato You Do You Free Hugs e Overcome e niente mi piace tantissimo ci ho messo niente a fare questo look si riescono veramente a fare delle robe super creative ed impatto senza però che in realtà ci sia chissà che sforzo dietro quindi per me lei vince il premio di palette sotto i 15 euro dell'anno ovviamente sopra i 15 euro invece ne ho tantissime di palette preferite infatti non so neanche come farò a scegliere ovviamente la Vintage Vibes è al numero 1 ma semplicemente perché è la mia palette e la amo con tutta me stessa però veramente quest'anno io non so quante cose siano uscite sarà difficile penso che al di sopra i 15 euro sarà ben più difficile perché almeno con il limite dei 15 alcune volte proprio semplicemente non ci sono dei prodotti quindi è più facile restringere il campo mentre al di sopra sarà come quando all'asilo ti chiedono ma preferisci la mamma o il papà non si può scegliere ragazzi non posso scegliere eyeliner l'eyeliner secondo me è il migliore rispetto a quelli che comunque erano già usciti anni e anni fa come ad esempio l'Epic Ink che è un ottimo eyeliner quello di NYX quest'anno invece è uscito il Deep Love di Clio Makeup costa 14,50 euro se non sbaglio ed è un ottimo eyeliner super nero molto preciso l'unica cosa proprio l'unica pecca per me che però non è neanche tanto una pecca è che non è super matt è leggermente lucidino ma veramente poco poi a me io preferisco in realtà gli eyeliner opachi ma in questo caso con questo look molto molto luminoso e in generale quando ho dei look molto luminosi un eyeliner troppo opaco secondo me stona perché è troppo opaco rispetto all'occhio quindi secondo me questo ha un ottimo finish per quando faccio dei look un po' più luminosi su di me dura tantissimo però sapete che io non sudo il mio volto non produce liquidi a parte le lacrime a volte ma non mi metto l'eyeliner se devo piangere e quindi in realtà mi dura tantissimo ok la categoria mascara è stata la più difficile perché me ne sono piaciuti davvero molti quest'anno proprio ho selezionato i tre più 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 belli che proprio mi sono rimasti nel cuore quest'anno quindi già ho fatto un buon lavoro a scegliere solo tre quello che ho usato oggi è il black bubble di neve cosmetics che oltre a essere un mascara naturale e comunque ad alta prestazione che non è facile da ottenere per una formula naturale a me piace tantissimo l'effetto perché è molto volumizzante non mi viene la parola è molto volumizzante molto nero separa bene le ciglia ma allo stesso tempo le rende non spesse però comunque belle presenti cioè vi da davvero tocco in più e niente mi piace tantissimo e allo stesso modo mi piacciono il mascara revolution allora tutti e tre hanno una cosa in comune i tre mascare che ho scelto hanno tutti hanno tutti l'applicatore a clissidra perché direi che è quello che preferisco sono arrivata a questa conclusione è proprio così quindi uno è il mascara revolution di revolution ottimo cioè più o meno danno tutti un effetto molto simile però in scala diversa il black bubble secondo me è quello un po' più naturale che uso un po' di più magari in combo con altri mascara cioè magari utilizzo questo e poi ne uso un allungante quindi questo mi dà volume e molto nero alla base e invece poi ne metto un allungante che mi aiuti a rendere più lunghe invece il mascara revolution è una via di mezzo nel senso che è un pochino più spesso come formula quindi si rischia a volte che sia un pochino granuloso un pochino a grumi quindi a volte bisogna magari scaricare un po' il pennello mischiarlo bene e il terzo che vince il premio su tutti secondo me perché è quello che ho usato anche più spesso è il major pleasure di Nabla questo mi sembra costi 15,90 ma comunque siamo lì e questo tra tutti proprio fa un effetto pazzesco fantastico è quello che mi piace di più usare quando non mi trucco gli occhi quindi metto solo mascara questo fa delle ciglia pazzesche quindi di solito uso questo o una combo insomma allora le matite che ho scelto in realtà a parte che non sono nuove del 2019 ma sono prodotti di gamma già da tempo ma io le ho scoperte quest'anno e in più si trovano a diversi prezzi però visto che vanno dai 9 ai 15 euro quindi siamo comunque lì e sono le Endless Silk Eye Pen di Pixi e io utilizzo la tonalità Matte Nude sempre sotto e la tonalità Black Noir invece come matita nera da utilizzare principalmente nella rima superiore per diciamo uniformare un pochino le ciglia e dare più pienezza più intensità devo dire che nel frattempo ho anche scoperto le matite di pupa che però sono un po' più care si trovano spesso in sconto però di base costano mi sembra 17 euro quindi non le ho incluse qua magari le includo nel prossimo video queste qua comunque sono ottime durano tantissimo non sbavano non c'è quando io metto la matita nera sopra e quella crema sotto non si incontrano mai cioè non trovo mai macchie di nero su quelle su quella beige eccetera quindi ottime anche se sono messe per ultime in realtà ve ne parlo adesso perché siamo ancora in zona occhi non potevo non potevo proprio esimermi dal nominarvi le ciglia finte migliori del 2019 ovvero le lash on lash off ciglia magnetiche di essence queste qua con lo sfondo rosa mi raccomando non quelle con lo sfondo viola queste qua perché queste qua sono praticamente quelle più allungate esternamente che danno un effetto appunto bello allungato queste sono la svolta della mia vita sono super comode danno un ottimo effetto naturale molto carino comunque riempiono proprio la fine dell'occhio rendendolo felino quasi molto più allungato veramente bello e basta un po' di pratica e sono le migliori ciglia magnetiche che io abbia mai provato perché ne ho provate tante queste sono le uniche che sono su di me ora passiamo alle labbra allora io ho scelto tantissimi prodotti labbra perché non i prodotti labbra forse sono quelli che sono usciti di più quest'anno e già proprio ho ridotto all'osso le cose che ho scelto però non potevo non parlarvi di alcune innanzitutto parliamo di quello che io indosso è uno dei prodotti che ho usato di più quest'anno sono contenta che sia tornato in stock e sto parlando delle lip mousse di Giuliana Makeup Delight insieme a Cosmify e questa in particolare è la mia preferita della 04 Combat ha la texture più comoda del mondo cioè è super elastica è super confortevole io riesco a tenerla su tutto il giorno me ne dimentico proprio è proprio il rossetto che io uso quando so che non ho voglia di stare a scartavetrarmi le labbra a fine giornata ovviamente magari durante la giornata va riapplicato perché non è no transfer cioè comunque poi mangiando anche va via però per me non è mai stato un problema quindi va benissimo e niente io lo adoro questo è il mio preferito in assoluto di tutte le lip mousse di Giuliana e uno dei miei prodotti preferiti di quest'anno in assoluto un altro prodotto labbra che mi è piaciuto molto ma è uscito da pochissimo però mi piace l'ho usato già tantissimo l'ho usato praticamente tutti i giorni quando è uscito è il balsamo labbra Coccolove TLK di Clio che è questo qua azzurrino ed è azzurrino semplicemente perché rilascia giusto un velo di colore un po' freddo il che aiuta anche a sbiancare i denti eccetera bella di questi prodotti è la texture cioè la cremosità e il senso di idratazione che danno e questo in particolare è quello che mi piace più di tutti proprio perché non dà colore a me piacciono i balsami labbra colorati ma mi piace quando danno poco colore perché io li metto cioè quando metto un balsamo labbra lo metto anche fuori dalle labbra non so voi ma a me bruciano tantissimo magari a volte e mi dà fastidio che siano tutti sbavati quindi questo qua in particolare è quello che mi piace di più perché lo posso mettere senza neanche guardare e mi idrata tantissimo d'inverno ne ho bisogno perché la mia pelle diventa prosciugata e le mie labbra si seccano veramente tanto quindi questo è un ottimo prodotto per questo periodo anche se stanno per uscire dei prodotti di questo tipo di un marchio di cui cioè che non vi posso dire ma penso usciranno molto molto a breve perché ho avuto la possibilità di provarli in anteprima e di insomma fare un contenuto per loro e da allora sto usando solo quelli perché sono il mio ideale di balsamo labbra e quindi non vedo l'ora di potervene parlare comunque passiamo invece ad altri prodotti labbra che mi sono piaciuti che sono i lip lingerie push up di NYX questi qua praticamente sono dei matitoni e la texture è opaca super levigante cioè nel senso che hanno proprio un bel effetto sulle labbra molto vellutato veramente bello sono confortevoli perché sono comunque dei rossetti quindi non sono secchi quanto magari un rossetto liquido che si asciuga e il profumo è di menta io amo la menta quindi hanno quasi anche un po' un effetto rimpolpante se vogliamo non esagerato però è rinfrescante quindi è piacevole un altro prodotto che è uscito recentemente ma ho usato moltissimo da quando è uscito è Edonist di Nabla è uno dei creamy liquid lipstick che sono usciti con la collezione Dreamy 2 quella domestic collection ed è un nude ma penso tutti questi colori sono delle tonalità di nude ma sapete che sono le mie preferite quindi non vi stupirete probabilmente è un rossetto liquido ma cremoso quindi non è un rossetto liquido che si asciuga è super pigmentato quindi non ce ne va tanto ha diciamo una specie di effetto gloss più o meno però un po' meno scivoloso un po' più spesso però non spesso fastidioso non so come spiegarvi è molto bello comunque ovviamente matite labbra io continuerò a consigliarvi le pastelle di neve sono le matite migliori dell'universo quindi ne sono uscite tantissime quest'anno ho fatto tanti video a proposito le trovate davvero di ogni tonalità quindi ottimo e infine un rossetto che però purtroppo in questo momento credo sia sold out ma io spero che torni penso di sì è di Ricky Oba per Cosmify della linea Vampiresky questa qua con questo pack il pack mi piace molto e la texture è ottima il colore in particolare che mi piace di più è lo 01 le stat che appunto dovrebbe essere sold out ma spero ritorni e in generale tutte questa linea di rossetti mi è piaciuta molto li uso spesso alcuni colori sono un attimino poco portabili quindi ovviamente mi piacciono i colori un po' più nude un po' più semplici lo sapete però davvero la texture è ottima siamo quasi alla fine ho ancora l'ultimo prodotto che ho usato sul viso e poi solo una cosa per capelli poi ho finito ve lo giuro andiamo in pace finalmente a riposarci io andrò a montare questo video che ci metterò sei anni comunque è lo spray viso bear with me di NYX che è uscito quest'estate sembra che ne abbia usato poco però vi giuro che è talmente sottile la nebulizzazione che è una delle cose che mi piace di più che in realtà non si riesce a usarne tanto alla volta però secondo me è ottimo toglie davvero molto la polverosità dal viso è molto fresco cioè proprio rinfrescante mi piace proprio come nebulizza questo spray è molto bello ce n'è una balanga quindi insomma questo mi è piaciuto molto costa tipo 10 euro veramente bello infine prodotto capelli e non ve ne parlo perché di Cosmify non ve ne parlo perché è di Marti ve ne parlo perché l'ho finito e mi sono resa conto della differenza che fa proprio in questi giorni che non l'ho potuto usare perché l'ho proprio finito del tutto e proprio non c'è più niente è il Softest Petals Hair Elixir di Martina da Amex insieme a Cosmify ok è la mia bestie però lo amo proprio perché vi giuro è pazzesco questo qua è quello per bleached color hair quindi per capelli decolorati c'è anche la versione invece per capelli normali ma secchi è un mix di oli che veramente dà corpo ai capelli gli dà una luminosità pazzesca un ottimo profumo e proprio in questi giorni che non ce l'ho più mi sono resa conto della differenza che faceva nella texture dei miei capelli primi lavaggi non l'ho sentito tanto forse perché aveva ancora un po' di residuo di potere da Elixir peccato che poi invece dopo un po' passi e mi rendo conto che ho bisogno di quell'idratazione in più soprattutto sulle punte a parte che mi disciplina di più i capelli e poi li rende proprio più luminosi più belli quindi non devo ricomprare assolutamente e direi che con questo finalmente è finito yeah non ci posso credere di essere arrivata alla fine di questo video perché ho davanti a me una marea di prodotti e già mi sento in colpa di non averle citate altri ma veramente non posso mettere tutto e quindi ho dovuto fare delle scelte è stato difficile ma ho fatto delle scelte io direi che quindi se siete arrivati a questo punto del video innanzitutto complimenti e fatemi sapere un pochino come sono andate queste vacanze quali sono i vostri prodotti preferiti del 2019 cosa avete scoperto nel 2019 che vi è rimasto che vi porterete per sempre nel cuore nella vita poi commentate con una bella emoji dello spumante per festeggiare insieme questo nuovo anno e io direi che noi ci vediamo nel prossimo video peace out mamma mia quanto mi sento una tiktoker che ho la maglietta con sotto la maglia e lo scrunch al polso io la crisi di mezza età la sto sentendo tutta se sì mi raccomando scrivetelo nella hydration praticamente ha un'ottima coprè dove l'ho messo ma il fondotinta no tra l'altro la cipra la vado a mettere proprio solo mette non ho neanche finito la parola poi con un pennello no con un pennello ha il pennellino incolpolato me ne sono piaciute davvero molto questa molto no poi si trovano spesso in co in conto se magari uno ha esagerato un po' con la polvere no si è spenta la luce primo spegnimento di luce dell'anno yeah eeeh